Buongiorno, mi chiamo Marco Signor, sono un oncologo radioterapista e possiedo un'esperienza ultraventennale di lavoro in un centro ospedaliero universitario. Ricordiamo come i dati di letteratura scientifica segnalano come il dolore non oncologico affligga circa un quinto di tutti i pazienti, di tutti i cittadini europei, mentre in Italia oltre un quarto, quindi una persona su quattro, è afflitta da dolore non oncologico. Altresì, dobbiamo ricordare come il dolore oncologico colpisce la maggior parte, purtroppo, dei pazienti affetti da neoplasie. Il dolore cronico, il dolore persistente, purtroppo non serve come un campanello d'allarme, non ha valore diagnostico, quindi è una sofferenza inutile, è una sofferenza gravemente lesiva perché determina ansia, determina preoccupazione, determina insonnia, produce depressione, rende inabili e disabili, rende invalidi, modifica nettamente le abitudini comportamentali, le nostre relazioni affettive, quindi altera completamente le nostre relazioni sociali. In altre parole, il dolore, quando è persistente, quando è cronico, diventa e si tramuta in una malattia, in una malattia che devasta completamente la nostra qualità di vita. Ed ecco allora come vivere senza malattia rappresenti necessariamente un diritto di tutti quanti i pazienti, di tutti quanti coloro i quali soffrono per questo dolore, per questo dolore persistente che li ingabbia, che li travolge nella loro esistenza quotidiana. D'altra parte, curare la sofferenza legata al dolore, curare la malattia, dolore, rappresenta un dovere etico, un dovere civile che ha l'obiettivo di ristabilire la dignità delle persone che curiamo. Esistono a questo proposito numerose linee guida, orientamenti di ricerca scientifica e di applicazioni terapeutiche che in particolar modo trovano esempio concreto, quotidiano, nella sinergia, nella integrazione tra radioterapia e farmaci, come per esempio i farmaci oppiacei, al punto tale che molto spesso i farmaci oppiacei vengono utilizzati per permettere l'esecuzione della radioterapia con tecniche estremamente sofisticate che richiedono una adeguata collaborazione dal punto di vista del paziente in termini di posizionamento, di immobilità che deve essere mantenuta per un discreto periodo di tempo. Ecco allora che mi permetto di rivolgere a tutti quanti un appello, un appello affinché le persone che soffrono per dolore cronico e le persone che sono vicine alle persone che soffrono per dolore cronico permettano di essere curati, permettano di essere aiutati ad affrontare questa malattia perché dobbiamo ricordarci sempre che il dolore deve essere non alleviato, non attenuato, deve essere eliminato, il dolore non deve essere trattato quando è comparso, il dolore deve essere prevenuto, il dolore deve essere anticipato con tutti i mezzi costantemente e quotidianamente.